Da cosa nasce questa presentazione abbinata di due libri, avvenimento abbastanza inconsueto nelle prassi accademiche? Nasce innanzitutto dalla affinità tematica che contraddistingue le due opere. Perché l'opera di Alberto Arbasino e l'opera di Alvar González Palacios trattano di incontri, io li definirei così, degli incontri. Non sono delle biografie, non sono dei profili veri e propri, sono degli incontri con grandi personaggi di un passato, di un più o meno antico e di un presente, più o meno presente. Si tratta quindi di un'affinità tematica che mi ha suggerito di proporre all'Accademia di San Luca di fare una presentazione abbinata di queste due opere. Il professor Francesco Moschini, che della nostra istituzione è segretario generale, validissimo segretario generale, ha colto questo mio suggerimento ed ecco perché siamo qui riuniti per parlare di due scrittori che entrambi onorano la letteratura italiana. Alberto Arbasino ed Alvar González Palacios, in ordine strettamente alfabetico. Nella cultura francese c'è una istituzione assai importante che è l'Institut de France e la connessa Accademia di Francia. Quando si registra una nuova entrata nell'ambito dell'ortus conclusus dei grandi accademici, c'è una cerimonia estremamente solenne, addirittura commovente, che si incentra su due momenti fondamentali. Il momento dell'audazio, un accademico illustra la personalità del nuovo accademico, ed un momento del discorso che il nuovo accademico fa a proposito dell'accademico al quale subentra. È qualcosa di estremamente interessante. Perché? Perché la cosa veramente affascinante è che il nuovo accademico inizia a parlare di quello al quale subentra, ma finisce per portare poi la tematica verso l'argomento che gli è più congeniale. Io mi ricordo il discorso di Pierre Rosembert. Pierre Rosembert subentrava a un filosofo jansenista, quindi cosa di più eterogeneo rispetto alla sua cultura. Lui parla sapientemente di questo filosofo jansenista, ma come direbbe Manzoni, di corte in corte, di dignità in dignità, finisce poi per esportare l'accento sul jansenismo nella pittura francese del secolo XVII che ha avuto degli approdi straordinari con Philippe de Champagne ed altri maestri coevi. I discorsi d'ingresso degli accademici sono talmente importanti che ne esistono delle raccolte ed è estremamente interessante sperimentare, scorrere la cultura francese attraverso questi discorsi di ingresso. Perché ho parlato dell'Institut de France per introdurre un celebre discorso di ingresso all'Accademia di Francia che pronunziò il 25 agosto del 1753 Georges-Louis Leclerc, più noto come Buffon, perché lui fu nominato Conte di Buffon e dall'ora in poi si chiamò più semplicemente Buffon. In questo discorso che ovviamente è pubblicato ed è leggibile, Buffon scolpì una frase che era destinata a diventare immortale, vale a dire la frase l'estil selom même. Lo stile è lo stesso uomo, poi semplificata in l'estil selom. Che cosa significa questa frase di Buffon estremamente icastica, estremamente forte nella sua rappresentatività? Che lo stile è l'essenza dell'ingegno umano. E mai come di fronte a questi due libri di Alberto Arbasino e di Alvar González Palacios si ha una riprova che lo stile è l'essenza della della loro natura e l'essenza del loro ingegno e l'essenza della loro testimonianza letteraria. Alberto Arbasino, cominciamo dal primo in ordine alfabetico, come abbiamo fatto sempre, Alberto Arbasino è uno scrittore straordinario. È uno scrittore che ha una prosa che è come un fiume in piena, ti travolge, non è che ti coinvolge, ti travolge e tu in questo caso ti devi lasciare trasportare dalla corrente. Sarà sempre un approdo lieto, ma in questa sua vorticosa capacità evocativa lui esprime una cultura profondissima, una cultura a 360 gradi, una cultura che ha il suo apice nel settore della musica, ma il settore della musica conosciuto da quella che si chiama musica classica, la musica operistica tradizionale. Ricordo un suo meraviglioso libro, Tra marescialli e libertine, nel quale parlava i libertini, Tra marescialle e libertini, nel quale parlava dell'opera del novecento, che è stata effettivamente un approdo straordinario nella nostra storia musicale. Dicevo, lui esplora il campo della musica a 360 gradi, ripeto, dalla musica classica e operistica fino alle canzoni di avanspettacolo. Mi ricordo che una volta, con stupore, leggendo Albert Sarbasino, vedi citata una canzone da avanspettacolo che si recitava all'Ambra Rojovinelli negli anni cinquanta e che si chiamava Il tram di Monza. Ricordi Alberto? Ha scoperto il prodamleto della samba Il gran segreto con la testa che gli ronza si attacca al tram di Monza e i versi erano ritualmente e perfettamente citati nel testo letterario. Io rimasi veramente colpito perché mi ricordo che nella mia esperienza di giovinetto, di giovinetto, insomma, pubere, ecco, andavo qualche volta alla Val Spettacolo che allora si recitava a Roma, al Teatro Altieri e all'Ambra Rojovinelli, oltre che un altro tristo luogo che si chiamava La Fenice e che stava via Salaria. E sentì una certa Marcella, che era una sciantosa degli anni cinquanta, che cantava questa canzone del prodamleto e addirittura lei aveva inventato il gioco del trenino, quel gioco che poi si favoleggia, sul quale si favoleggia molto, che consisteva in una serie di persone incolonnate che procedevano andando avanti e indietro con dei rinculamenti abbastanza equivoci. Ecco, e la brava Marcella diceva, ha scoperto il prodamleto e il coro faceva eto e rimbalzava indietro. Della stampa il gran segreto, eto e rimbalzava indietro. Era una cosa lubrica, ma certamente divertente. Ho trovato anche questo in alberta al basino. E vi dico la verità, che quando si riesce ad avere un'immagine globale della cultura musicale, un'immagine a 360 gradi, tu non hai che da esprimere ammirazione e apprezzamento. E poi, vedete, parla di questa immagine a 360 gradi. Ma sentite che cosa dice a proposito di un grande critico musicale, un grande critico musicale che ebbe un suo momento di celebrità negli anni 30-50, Edward Hanslick. Sono poche parole, ma travolgente. Sembra che manchi poco a un passo estremo. L'applicazione delle impazienze di Hanslick contro Richard Strauss e contro giovinastri, pittori e poetici che si stanno moltiplicando. Discendenti di Berlioz, Liszt, Wagner, Forse. Il virtuosismo nell'orchestrazione è diventato un vampiro che insidia il potere creativo dei compositori. Questa cosa ripugnante non è pittura tonale, è piuttosto un cumulo di sgorbi lucenti, un'orgia tonale frenante, metà beccanale e metà sabba di streghe, gli eredi legittimi del laico in tedesco. E finisce. È straordinario. Straordinario come saranno 10-12 righe, lui riesce a condensare il pensiero di Hanslick a metterlo in evidenza, a sottolinearne gli aspetti più dirompenti sulla critica musicale. Quindi, Alberto Albasino, in questo libro, figure e immagini, dà una nuova testimonianza della sua straordinaria cultura musicale ed umana. Cultura non solo musicale, perché i personaggi con i quali lui si incontra appartengono a tutto il settore che oggi si chiama cultura. Perché oggi, come voi sapete, cultura è qualcosa di molto significante, di polisignificante, forse addirittura di totalizzante. Oggi le belle arti non esistono più, e mi rivolgo a Gianni Desi, che è il presidente dell'Accademia di San Luca e che è un grande pittore. Oggi non esistono più le accademie di belle arti, esistono le accademie dove si fa cultura figurativa. E la cultura figurativa è in un certo senso tutto. Ne possiamo avere una riprova, anche andando a vedere la bella mostra di Ontani che è ospitata a Piano Terreno, dove questo bizzarro artista riesce a dare una cultura dell'immagine profondamente contraddistinta da un narcisismo estremo, un narcisismo direi quasi parossistico, che si esprime anche attraverso la ceramica, attraverso gli scarabocchi, attraverso... Ecco, io mi ricordo nel mio studio ho un fax che mi inviò Alberto Alvasino, scusate, a Luigi Ontani, che mi inviò a Luigi Ontani, perché curavo una sua causa, gli avevo mandato una comunicazione in stretta forma legale, su carta intestata, eccetera. Lui mi risponde attraverso un foglio tutto schiribizzato da lui, dove c'era il suo messaggio, bien sûr, ma c'era anche questa immagine pittorica, immagine figurativa. E io vi dico sinceramente questo fax, l'ho riprodotto e messo come un cimelio artistico nel mio studio, in una stanza dove ci stanno varie testimonianze di arte d'avanguardia. Ci sta anche il fax di Luigi Ontani. Quindi, come vedete, oggi il concetto di cultura si è estremamente ampliato, tant'è vero che oggi noi abbiamo il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e non più la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, che invece fino agli anni 70 era l'organo amministrativo preposto alla tutela del patrimonio culturale. Quindi, dicevo, oggi cultura significa tante cose, ma Alberto Albasino questo l'aveva intuito da tempo, l'aveva intuito da tempo proprio quando considerava manifestazione culturale anche il Tram di Monza che si recitava nei varietà, nei cinema d'avanspettacolo degli anni 50. E allora cosa mi attira verso lo stile di Arbasino? Mi attira profondamente questo, che quando lo leggo mi sento piacevolmente travolto e piacevolmente portato alle foci del mare da un fiume in piena. Arriverò alle foci del mare, spero di arrivarci vivo, ma comunque mi lascio cullare da questo ritmo travolgente. Lo stile di Alvar González è viceversa esattamente l'opposto. Alvar González è un italiano, a tutti gli effetti, perché è cittadino italiano, ma è nato a Cuba, quindi è uno spagnolo di Cuba, perché a Cuba ci stanno i cubani misti e i cubani di origine spagnola. Lui è uno spagnolo di Cuba. Il suo stesso aspetto denota queste origini nobili e castigliane. È uno spagnolo di Cuba, ma venuto in Italia ha avuto una capacità di assimilare la nostra lingua al punto che, se io fossi docente di letteratura italiana, proporrei ai miei allievi i libri di Alvar González come esempio di perfetto stile italiano, come esempio di prosa misurata e perfetta. Ma la prosa di Alvar González non è soltanto misurata e perfetta. Sarebbe riduttivo intenderla in questo senso. È anche una prosa lirica. Vi sono dei momenti nei quali le sue immagini letterarie richiamano una frase che era molto cara a Francesco Flora, il grande studioso della letteratura italiana sul cui manuale, in ben cinque volumi, io ho fatto i miei studi per la licenza liceale. Francesco Flora usava spesso il termine il libero metro della prosa per indicare che in fondo tra prosa e poesia non vi sono tante differenze. La poesia normalmente ha dei metri ben determinati, la prosa ha un libero metro. Ma che la prosa abbia degli andamenti poetici è assolutamente innegabile. pensiamo soltanto a quel breve schizzo che dà Manzoni della madre di Cecilia. Usciva dalla porta di uno di quegli usci e si avviava verso il convoglio. È una vera e propria composizione lirica quella di Manzoni. Una composizione lirica meravigliosa che può avere, adesso non è più di moda dispersare Manzoni, mi ricordo che una cinquantina di anni fa era di moda dispersare Manzoni. C'è pure un filmaccio da quattro soldi pseudo intellettuale in cui un personaggio diceva che l'Italia non aveva avuto grandi romanzieri perché mentre Manzoni aveva scritto un solo mediocre romanzo, Charles Dickens aveva scritto i 40 fesserie di questo genere. Oggi per fortuna Manzoni è recuperato. E quindi Manzoni è un grande scrittore e se io dico che il brano della madre di Cecilia ha un suo corrispondente del più bel componimento poetico della letteratura italiana che è l'infinito di Leopardi, non dico una frase in fondo troppo eretica. Quindi Alberto un fiume in piena, Alvar la prosa elegante e apollinea. Quella prosa elegante e apollinea che ha sempre caratterizzato la letteratura italiana. E adesso ha ancora un grande pigono, un grande pigono che viene da terre a noi lontane, ma da uno spirito evidentemente a noi molto vicino. Quindi ecco perché la presentazione abbinata di queste due opere, che sono affini tematicamente, ma del tutto diverse dal punto di vista dello stile. Perché esprimono due personalità completamente antitetiche e completamente diverse. C'è però non solo l'affinità tematica che le unisce, ma il fatto che siano, consentimi di dirlo Alvar, due capolavori della letteratura italiana di questo momento. Due capolavori veri. Ecco. E so che a te non fa piacere essere elogiato, ma lo faccio lo stesso. Lo faccio lo stesso anche contro la tua volontà, perché è un debito che ho verso coloro che mi ascoltano. E il debito che ho verso coloro che mi ascoltano trascende il debito di amicizia che ho verso di te. Grazie.